chi è il Deutz? c'è parte il Fend ti dà un bello slancio impressionante il Fend sembrava morto qua l'ho visto un po' l'ho visto un po' non ha sgommato nulla bella eccellente andiamo a moto mmm anche questo Deutz mi sento troppo il motore è il motore Deutz e il Fend eh dicono che sono uguali però io scopro ci prendo come sarebbe più curioso di chi è il 716? quello che è il quello che l'ha portato fuori ma l'altro 717 cavallo es es ottima partenza molto grittosa se l'azione è tutto così per il progetto di realizzazione ehi signori io vi devo pregare un'altra volta di uscire ehi!